Mi avvicinai a una caverna, attratto lì solo dal desiderio. Rimasi fermo nell'oscurità, avevo paura e desiderio di osservare le meraviglie che conteneva. Io voglio lasciare un ricordo di me nella mente degli altri. Leonardo da Vinci, discepolo dell'esperienza. L'occhio abbraccia la bellezza del mondo intero. L'occhio è la finestra dell'anima. Io calcolo che lo spazio tra la punta del mento e la base del mento è un sesto del volto e un cinquantaquattresimo dell'altezza di un uomo. Ho ideato macchine che creano spavento e confusione nel nemico. Nel mondo ci sono uomini malvagi. La guerra è una pazzia bestialissima. La conoscenza nasce dalle sensazioni. Descrivi la fame, descrivi il sonno, descrivi la sede, descrivi tutto. La natura deve guidarci. Niente è superfluo in natura. La natura è perfetta. E fornisce continui modelli da imitare. Che cos'è che non possiamo realizzare? Se un uomo potesse volare. Se un uomo potesse volare. Voglio lasciare un ricordo di me nella mente degli altri. Io sono Leonardo da Vinci. Io sono Leonardo da Vinci. Grazie a tutti.